Quattro e buon sette. Buona macchina. Quattro e buon sette. Puoi essere il migliore, no? Puoi essere il migliore quadro. Ok. Guarda la video. La video? Mi chiami. Dimi se pensi che è bene o no. O che pensi. Quattro. Pass. Dribbino. Short. Due gols sempre. Guarda l'esporto. Per me, questo deve essere 85. Sono felice. Grazie mille.